CILOC del Ministero del Lavoro sulla Circolare dell'Inps che disciplina il cumulo gratuito dei contributi versati anche nelle casse previdenziali dei professionisti. Prevista dalla legge di bilancio un anno fa, la possibilità di cumulare gratis periodi di contribuzione presso gestioni diverse. Lavoratori che, per esempio, sono stati assicurati prima all'Inps e poi a una cassa o viceversa, era rimasta finora bloccata. Per quanto riguarda le casse dei professionisti, per mancanza della circolare, i tecnici hanno infatti dovuto superare il problema che alcune casse prevedono requisiti per il pensionamento differenti da quelli del regime generale Inps. In particolare, in caso di requisiti più alti, le casse avrebbero rischiato di dover pagare prima la pensione, con un aggravio dei conti, in contrasto con la necessità di legge di garantire la sostenibilità a 30 anni dei loro bilanci. Soluzione a tappe Alla fine l'ostacolo è stato superato con una soluzione a tappe. Il cumulo gratuito consentir di accedere al pensionamento secondo i requisiti Inps. Ma l'importo della pensione sare corrisposto in due fasi. Per prima partire l'Inps mentre la cassa professionale pager la pensione di sua competenza al raggiungimento dei relativi requisiti. L'assegno iniziale dell'Inps non sarà una vera e propria pensione ma un anticipo. Non verranno quindi pagate eventuali integrazioni e maggiorazioni sociali. Le coperture comunque necessarie per il cumulo gratuito dovrebbero arrivare con la prossima legge Di bilancio Altro su MSN Bolt si gode la pensione Rai Riproduci nuovamente video IMPOST AZIONE NON Attivo HDHQSDLO